Buon pomeriggio a tutti voi, buon mercoledì 23 ottobre, nuovo video, ci sono delle novità importanti da dirvi anche per il nuovo programma o software con l'aiuto di Massimiliano dell'Otto per vincere Pro vi faccio vedere un breve schema inerente anche alla tecnica dell'ambata contata dove va a trovare le situazioni a Tenaglia è importantissimo per non stare lì a scervellarsi, a farsi andare via la vista per cercare le condizioni migliori condizioni migliori che vi farò vedere già da oggi su due ruote gemelle che si potrebbe portare già in gioco visto che qualcuno ci la metta per il 68 ma io vi ripeto anche che il 68 non sarebbe da mollare perché basta vedere cosa è successo ieri sera, guardate qua, questa è una condizione che ci ha fatto vincere due ambi secchi, due ambi in quartina, l'ambetto su Cagliari, l'estratto e due ambi oro era successo il primo colpo, vi ricordate, era un sabato, sono passati due sabati ahimè il 68 ancora non è uscito, è uscito un misero ambetto su Cagliari, era il 14-68 allora questa è una condizione che ho dato qualche colpo fa, guardate un pochettino, persino su Cagliari dopo dieci colpi esatti perché io qua mi segno tutto, 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 quindi dopo dieci colpi esatti quindi col 68 siamo a nove colpi domani sera quando vi dico che i numeri possono dare anche due volte, possono dare anche tre volte oppure non dare niente e poi magari dopo 9-10 colpi, 11, boom, arriva l'esito Cagliari 2-74, ma non era la condizione che ho dato in pubblico? 2-74, secco dopo 9 colpi esatti perché al primo colpo si è vinto, poi dopo 9 colpi, in totale 10 colpi è arrivato l'ambo secco 2-74 su Cagliari, eccolo qua quindi sono previsioni mi-ra-te e quindi, questo ho sbagliato, ieri sera, non so perché, magari la febbre, il cattaro che gira nel cervello mi ha fatto dire che abbiamo fatto l'ambo su tutti quando è un 42 ma che 42, 47 in gioco, non 42, vedete che sono un po' flippato non flippato però, per dare le condizioni ottimali come il 2-74 è uscito, vi ripeto, al decimo colpo di gioco questa è una previsione che ha dato tre volte nell'arco di 10 colpi, ecco perché vi dico, attenzione il 68 non è ancora dato e quindi, per quello vi dico, c'è anche il discorso del 13 c'è anche il discorso del Bellos 2-74 forse qualcuno, devo dire ancora se è arrivato qualche scontrino ti devo riguardare ancora un po', meglio mamma mia, sempre via la voce vabbè, allora, buttiamo giù un attimo lo schermo quindi, cosa vi voglio far capire? che le previsioni mi hanno seguite, è vero che ci stiamo menando anche a Baia, che siete tutti incavolati e io e poi pure, perché ah, un attimo, aspettate eh no, perché poi vado avanti, vedete allora la data è quella di ieri, aspettate che non so se si vede bene ok, sì 22-10 ma io perché non faccio vedere le mie scontrini? ma per non perdere tempo questo è lo scontrino di ieri sera qua ci sono tutti gli ambi giocati eh eh ma cosa vi dire? allora, se io non voglio far vedere le giocate sono cavoli miei eh sarebbe più corretto che cosa? ma a casa mia faccio quello che voglio eh non è che sarebbe più corretto far vedere che cosa? ma come? ma sei sei qua da un mese sei qua da una settimana posso capire ma sono sei anni che faccio vedere anche gli scontrini eh sei anni sei anni allora mamma mia cosa devo fare per farvi rendere eh non lo so veramente cioè andate a vedere delle cose ma pensiamo a vincere questa condizione pensiamo a vincere questo altro che andare a vedere se gioco gli scontrini io ma tu li giochi ma tu li giochi ma mamma mia questo vuol dire darmi fiducia proprio al mille per mille al mille per mille hai visto che li gioco anch'io eh ma guarda non mi arrabbia neanche più perché mi fate solo per ridere allora tanto sottoscritto ha fatto vincere tutta Italia con 2500 anche se si 2500 oltre scontrini eh già con questa qua ieri sera 274 sempre su Cagliari dopo 10 colpi ritornando al discorso di prima questa 9 colpi domani sera va bene allora ritornando al discorso poi che vi dicevo prima questo programma di eh Massimiliano Falcucci di lotto per vincere pro lo conoscete tutti eh Massimiliano maravissimo eh stiamo eh sviluppando questo nuovo software giusto sbaglio si software che va a ricercare le condizioni migliori a Tenaglia per eh ricercare quelle condizioni dove dove l'esito potrebbe arrivare con una giusta condizione come dicevo a Massimiliano che poi anche lui ha capito il giro com'era della della matacontata specialmente nella condizione Tenaglia dove due numeri vertibili quindi attenzione anche due numeri uguali anche se una va sulla ruota e l'altra gemella anche potrebbe formarsi l'ambo vertibile ma quando questo vedete lui ha messo in evidenza come si sviluppa già la previsione vedete praticamente il 29 di Palermo che è questo e il 22 di Roma vedete due numeri vertibili vanno a cadere proprio sulla ruota di Cagliari Torino nel frattempo che qualcuno si è già stufato di dire che sono 68 mi sta qua non lo voglio più giocare qua vi do già un ambo solo da giocare ambo e ambetto Cagliari Torino nazionale attenzione perché questi sono radicali e il 2 si è fatto vedere ieri sera se non sbaglio a Cagliari occhio perché quel 2 ritorna molto frequente su Cagliari Torino non vorrei che si accangiasse con uno di questi ancora 2 29 22 29 i radicali del 2 quindi qua abbiamo già un'impronta che può arrivare proprio su queste e su queste due ruote aspettate che allarghiamo un po' un po' di più così almeno vediamo bene tutto poi se notate nella griglia adesso qua è in piccolo quindi non è che si vede bene ma sul computer vi assicuro che si vede benissimo allora qui ogni estrazione c'è già l'ambata contata vedete Bari che vi organizza tutte le giocate su ruota quindi in un clic solo avete la previsione già pronta con la tenaglia perché questa è la situazione tenaglia quindi va a pescare tutte le situazioni tenaglie e di qua invece avete tutti i numeri che vanno a cadere nelle ruote da Bari a Venezia guardate se mi sposto indietro vedete ci sono degli esiti particolari guardate già cosa è successo il terzo colpo a Venezia la previsione che si crea tra Bari con il 55 e il Torino con il 59 vedete quindi il 55 di Bari va a Venezia e Bari cioè questo ritorna su Bari e Venezia il 59 di Torino scende a Venezia e Bari quindi abbiamo la condizione che dice che il 55 e il 59 è un bambetto su Bari e Venezia terzo colpo ieri sera guardate cosa è successo sulla ruota di Venezia vedete ma è pazzesco poi 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 se noi andiamo indietro scorriamo il cursore Fatima Semiliano ha messo tutti gli esiti per iscritto da cima a fondo sono controllabilissime sono fruibili come dice lui sono molto molto alla mano perché di qua si sviluppa la condizione di qua vi da tutto il resoconto di quello che succede delle condizioni e qui vi metto i colpi di gioco vedete quindi a fianco al numero Massimiliano se penso di non sbagliarmi questo qua dovrebbe essere i colpi di gioco che vanno poi vedete vanno a paragonarsi poi infatti al terzo colpo è uscito vedete terzo colpo poi vediamo un po' cosa è uscito Genova a Palermo eccolo guardate un pochettino ragazzi allora condizione vedete a Torino c'è il 29 a Venezia c'è il 22 vanno a cadere su Genova a Palermo ieri sera al primo colpo a Palermo se non sbaglio no non c'era ieri sera ma al primo colpo 23 29 ambetto secco e sono tutte le condizioni a Tenaglia vedete poi qua praticamente adesso noi abbiamo inserito l'ammata contatta come versione la più importante delle condizioni a Tenaglia che uno va a cercarsi di qua tutto il trafilo dei numeri già calcolati cioè qui avete già tutti i numeri 55 numeri calcolati che vanno a ruota Bari vedete il primo estratto di Bari va su Roma e Firenze il secondo estratto di Bari va a Milano Napoli cioè qua in una grigliata vi fa già vedere cosa arriva su ruota ma quella più bella è qua perché abbiamo già ha già sintetizzato come volevo io il discorso dei vertibili che vanno a creare un unico ambussecco su ruote quindi meglio di così e ci puoi giocare pure l'ambetto allora guardate qua ma guardate che ce n'è di esiti esiti ce n'è tantissimi adesso cercarli tutti diventa un casino però voglio farvi vedere perché ci sono degli esiti veramente importanti allora vedete 6 qua c'è sesto colpo e qua avete l'esito anche sulla nazionale vedete per quello vi dico coprite anche la ruota nazionale perché guardate gli esiti arrivano anche sulla ruota nazionale sulla ruota nazionale poi bello così perché almeno puoi vedere l'andamento della previsione unica con un ambus unico proprio su ruota e anche sulla ruota nazionale allora anche qua eccolo qua guardate vedete allora su Firenze su Roma e Firenze si crea il 54 al 45 perché c'è il 54 di Firenze che rimane lì perpetuo il 45 di Venezia guardate qua va a finire lo contiamo 5 10 15 20 25 30 35 40 a Roma quindi 54 rimane Firenze quello di Venezia va a Roma e quindi abbiamo di nuovo l'ambo vertibile che va a finire sulla ruota gemelle oh guardate qua quinto colpo ambetto secco ma hai utilizzato due numeri vedete come ben ben strutturato guardate qua ci sono tutti gli esiti ci sono poi poi bello questo qua siamo sempre a due numeri guardate qua allora controllo vinciti vedete condizione che si crea da Milano 53 che rimane perpetuo il Torino al 35 guardate 5 10 15 20 25 30 35 va a Milano quindi 53 rimane ingabbiato su Milano Napoli il 35 di Torino rimane ingabbiato Milano Napoli e quindi hai sia il 35 che il 53 che vanno su ruote gemelle la classica situazione è proprio quella quando due numeri vertibili anche uguali ma meglio vertibili perché hai una connessione doppia di quello una dimensione doppia di quello che potrebbe succedere e non si sbaglia ambetto a Napoli 53 36 al terzo colpo guardate qua cosa avete di fronte e di qua sempre i numeri calcolati a estrazione boh e questo secondo me è l'esito più bello ancora di più allora abbiamo che cosa ma guardate cioè sto andando indietro e ce n'è una vagonata so che è uscito la Genova no aspettate era uscito l'89 l'88 allora ce ne sono tanti esiti no qua ancora l'esito non c'è ma c'è un esito che fa fantastico veramente allora vediamo se riesco a trovarvelo perché 99 100 ci va a cadere proprio e quindi non c'è il discorso proprio che vi dicevo allora vediamo un po' vediamo cercherò trovarlo c'era proprio l'ambo secco 88 89 ora qua ce ne sono tante in discussione allora in questo programma abbiamo già messo l'ambata contatta e la condizione tenaglia poi sotto qua c'è la possibilità di scegliere altri programmi per adesso abbiamo messo una nuova che sarebbe l'ambata sarebbe la cadenza simmetrica gamma 2 che è una tecnica particolare che poi vi spiegherò poi in futuro e va sempre a beccare due ruote non gemelle ma dove si comportano i numeri ok allora ritornando al discorso di prima c'è questa condizione che deve dare eccola qua Cagliari Torino 22 29 questa è già avanti di due colpi perché ve lo dice qui due colpi e quindi tre colpi già nomani 22 29 Cagliari Torino Cagliari e Torino vedete quindi questa aspettate che riduco questa praticamente io ve lo dico sarebbe da seguire ancora domani questa eh aspettate che la metto bene tutto ok ok allora questo per quanto riguarda il 68 di Cagliari non ha ancora proviamoci ancora domani 9 colpi io ho segnato tutto qua non mi manca niente faccio tutto qua il decimo colpo ha dato eh questa qui l'ha data al decimo colpo ha chiuso in bellezza il decimo colpo questo col 274 vedete che quello che vi do non è sono non sono porcherie eh sono numeri fatti a dovere studiati come questa e vi ripeto quanti mi state mandando in tanti non la mogliamo c'ho la mia condizione c'è tizio Cagliari io continuo a mandarmi i loro schemi con le loro tecniche giustamente che mi dicono anche loro ma cosa dici il 68 deve uscire allora io per quello cerco unità con voi perché sono una persona umile cerco sempre di venire incontro a tutti e di rendervi partecipi anche voi con me nella situazione che stiamo giocando perché io do solo una previsione ve l'ho sempre detto una sola previsione e insieme possiamo ancora affrontare domani sera questa io nel frattempo vi ho dato già il 22 29 Cagliari Torino è nazionale se ci mettiamo il 2 non si sa mai va bene ecco perché vi sto dicendo questo poi ultima cosa per la classifica integrale del 90 è questa la Palermo Roma è inutile che vi faccia vedere sempre le stesse cose lo possiamo fare anche per i nuovi ma si dai allora doppio 90 Venezia 12 ottobre 17 ottobre di nuovo il 90 di Venezia che va a Palermo Genova la somma 89 1 89 1 viene bene perché vi ricordate sabato 12 ottobre avevo scelto fra Firenze e Roma Roma e intanto il Venezia andava a Palermo poi combinazione giovedì 89 1 somma 90 e comunque collega Palermo e Roma di nuovo quindi Palermo e Roma dovrebbero essere proprio le primarie va bene poi per il discorso del programma ne riparliamo a breve perché questo siete già interessati in molti tanti volevano la doppia schermata lo so però già così secondo me è la cosa migliore perché avete tutto qua avete già il resoconto anche se non c'è la doppia schermata ma che se ne frega guardate qua vi da tutto per adesso abbiamo inserito la matta contata in due versioni nella stessa ovvero la condizione tenaglia che è importantissima importantissima perché è quella che vi collega proprio la condizione tenaglia la ricercata più di tutte perché quella ragazzi è una tecnica che è fantastica e poi tutto lo schema adesso posso ingrandirlo possiamo anche cambiare i colori possiamo fare qualsiasi cosa allora se ingrandisco qua adesso non posso più spostarlo comunque si ingrandisce a tutto schermo si vedono veramente bene i numeri sono belli grossi la figata allora ci ritorniamo al discorso del programma già che ci sono volevo salutare Massimiliano ciao Max allora Palermo Roma ultima cosa due ruote primarie che secondo me potrebbero andare d'accordo per il 90 ci risentiamo e allora ancora domani sera questa come va di vadi fateci un pensierino per 22 29 Cagliari Torino 22 29 Cagliari Torino che sarebbe questa andiamo indietro eccoli qua Cagliari Torino si si siamo già a tre colpi domani sera e questa parte bene perché Cagliari Torino sono frequenti andiamo a vedere invece con l'8 più guardate quanti software a portata di mano che abbiamo grazie proprio Massimiliano e Roberto Borrelli sono due fenomeni veramente allora guardate un attimino no per farvi vedere Torino guardate il Torino il 22 22 guardate è il 29 mamma mia vedete che siamo di nuovo a capo 22 e 29 ammazza poi andiamo a vedere Cagliari 22 29 guardate poi il 29 di Cagliari è pazzesco il 2 è già dato ieri vedete ma comunque ieri era 9 quello vi dico guardate un pochettino il 13 già che ci siamo guardate un pochettino il 13 è il 68 non è che vi dico perché uno gli piace far spedere i soldi alla gente perché gli sto giocando anche io ma i miei sono qui mamma mia che fiducia che date ragazzi ci risentiamo mi va via la voce dai domani sera allora ancora 68 in alternativa 22 29 Cagliari Torino è nazionale Ambo e Ambetto se volete aggiungere il 2 fatelo perché il 2 è già comparso su ruote di Cagliari ieri sera può essere un numero che si può ripetere essendo per questo Cagliari Torino in aggiunta 22 29 perché è un radicale ci sentiamo buona serata a tutti e buon pomeriggio a tutti perché siamo qua nel pomeriggio poi ci risentiamo per delle prossime news ragazzi io vi ho dato tutto ho dato oltre così almeno vi ho accontentato un po' tutti ma il 68 secondo me perché vedendo questo vedendo questo che è successo a Cagliari al decimo colpo quindi ci risentiamo non è così tutto buon proseguimento